Buongiorno a tutti, sono Massimo Gadda, ex calciatore dell'Ancona. Sono felice di far parte di questa iniziativa Gli Amici di Tomatis, Asta Benefica per accogliere fondi per il progetto La Via dell'Ascolto Tomatis, promosso da DSA, Centro Specialistico di Ancona, con la collaborazione della Fondazione Ospedale Salesi di Ancona. I fondi raccolti consentiranno ad un gruppo di bambini epilettici di seguire gratuitamente il metodo Tomatis. Il 7 giugno abbiamo festeggiato ad Ancona i 30 anni dalla promozione SRA, è stato un evento eccezionale e quel giorno mi è stato chiesto di donare la maglia che ho indossato per questa iniziativa. autografata da tutti i miei compagni che hanno partecipato a quella grande impresa. È stato un grande onore per me e quindi sono molto contento di far parte di questa Asta Benefica. Spero veramente che possa avere successo perché credo che in questo momento comunque difficile che stiamo vivendo, la solidarietà tra le persone, la generosità, possa veramente aiutare soprattutto chi è in difficoltà. Quindi ripeto, per me è un grandissimo onore far parte di questa iniziativa. Spero che la mia maglia possa avere successo in questa Asta, così come tutto quello che è stato donato per questa iniziativa veramente lodevole. Vi ringrazio per aver pensato a me, a noi, a Ancona e spero veramente che tutto questo possa aiutare questi bambini che soffrono nel loro percorso di crescita. Grazie a tutti e un abbraccio. Grazie a tutti e un abbraccio.